Buongiorno dalla Mola Tonelliana, stiamo per entrare al Museo del Cinema di Torino. Sarà Panatta, li guiderò. Ci addentra nell'illusione del pre-cinema. L'occhio è il protagonista, guardare ed essere guardati nella lente del prese. Queste rappresentazioni ci ricordano i primi esperimenti tra scienza e magia, gli uomini e le prime scatole magiche, tra cinema, fotografia e alchimia dello sguardo. Fisica, chimica e prestidigitazione. Il cinema è chimica o è fantasia della chimica? La lanterna magica proietta i sogni, i sogni e le storie di un'immaginazione ancora pre-cinematografica. È l'infanzia di una cultura che ancora impara le sue visioni. Il cinema è un'invenzione senza futuro. Il cinema è un'invenzione senza futuro. Tra profondo rosso e così ridevano, due momenti della nostra storia del cinema, un unico fotogramma. Nella stanza di Camiria, la stanza delle illusioni, il drappeggio, i monumenti antichi, la visione di un profeta che indica forse la nuova strada, il cinema alle prime armi, che conquista con le sue prime armate i suoi primi fotogrammi storici. È Metropolis, la città del cinema, la città dell'uomo, dell'uomo che corre contro il suo stesso tempo. Siamo al cospetto del tempio della cultura fantasy, Alien, lo scontro finale, il terzo film, James Cameron. Manca solo la famosa bava dell'alieno. Che la forza sia con voi! Il cinema, prima di essere su pellicola, è su carta. È l'illusione del cinema, siamo dentro e siamo anche fuori, siamo sotto e siamo sopra. Cromacate! Cromacate! Questo è il caso di cambiare le ruote a questa macchina. Cromacate! E' un po' più lunga! Sì! E' più lunga! E' più lunga! E' più lunga! E' più lunga! La cucina con la tene La cucina con la tene